buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial per far vedere come si compila la domanda per il pensionamento per la pensione di vecchiaia per chi per esempio raggiunge 67 anni di età al 31 dicembre 2024 e da almeno 20 anni di anzianità contributiva o la pensione di vecchiaia per coloro che hanno raggiunto al 31 dicembre 2024 66 anni e 7 mesi di età e hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 agosto 2024 oppure la pensione anticipata per con i requisiti al 31 dicembre 2024 che sono l'anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi per le donne o il requisito di un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per i maschi per gli uomini andiamo a vedere come si compila dunque si deve andare su questa su istanze online una volta che ci si logga si deve andare su cessazioni online personale docente ata fate attenzione che ci sono diversi forme di cessazioni online tanto per farvi vedere ci sono per esempio la cessazione online per i dirigenti scolastici la cessazione online per dirigenti scolastici quota 100 la cessazione online personale docente ata quota 100 oppure quota 102 e così via ecco scendendo ritorniamo a questo alla la nostra richiesta per ripetiamo per le pensioni di vecchiaia o per la pensione anticipata di che abbiamo specificato dunque si entra e si va da qui a vai alla compilazione si deve leggere attentamente questa pagina informativa molto importante dove la compilazione rappresenta proprio una dichiarazione personale che deve essere veritiera secondo il dpr 445 del 2000 e dunque sotto la propria responsabilità si deve cliccare questo pallino per dire che si è preso atto del regolamento per poi fare accedi quando una volta fatto accedi si entrerà su una pagina di anagrafica e facendo nuovamente accedi si potrà compilare la domanda una volta a questo livello della domanda si deve cliccare la prima diciamo delle ipotesi possibili cioè la domanda di cessazione chi sono coloro che devono cliccare questo tipo di richiesta di cessazione sono appunto i docenti che al 31 dicembre 2024 il personaleata che al 31 dicembre 2024 ha una requisito contributivo se donna di 41 anni 10 mesi dunque si tratta di una pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica e se maschio un'anzianità contributiva di 42 anni 10 mesi si clicca questa domanda ma questa domanda può essere fatta anche per le pensioni di vecchiaia cioè per i docenti che hanno almeno 20 anni di contribuzione e dunque un'anzianità contributiva almeno di 20 anni e però hanno raggiunto al 31 raggiungeranno al 31 dicembre 2024 67 anni di età può fare pure questa domanda così come la stiamo facendo vedere anche la pensione di vecchiaia per chi ha raggiunto 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024 e ha un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 agosto 2024 a questo punto avendo fatto tutto basta fare inserisci e la domanda sarà inserita al sistema e ci sarà da rispondere da dichiarare fare delle altre dichiarazioni come ad esempio si dovrà dichiarare si dovrà dichiarare nello specifico che cosa quale delle tre opzioni ci troviamo per esempio se un maschio dirà chiaramente 42 anni di 10 mesi di anzianità riscontrata al 31 dicembre 2024 così si chiede la pensione facendo cliccando qui se invece si vuole chiedere una pensione di vecchiaia perché si raggiungono 67 anni al 31 dicembre 2024 l'opzione sarà questa qui dunque per esempio si sceglie queste di inoltre una volta cliccata questa opzione come si vede si passa un'altra domanda dove si indica la volontà di interrompere il rapporto d'impiego nel cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito o la volontà di non interrompere il rapporto d'impiego nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito e dunque si consiglia di fare di cliccare questa seconda ipotesi e dunque infine si può anche dichiarare inoltre di impegnarsi in oltrare al competente ente previdenziale domanda di pensionamento a decorre dall 1 settembre 2024 facendo conferma la domanda è praticamente compilata vi ringraziamo per l'attenzione seguiranno altri tutorial per altri casi di pensionamento